se non cadendo. Infine riuscì a sporgere la testa dal tetto di foglie e a quel punto sì che trovò i ragni, ma erano solo ragnetti di dimensioni normali e davano la caccia alle farfalle. Gli occhi di Bilbo furono quasi accecati dalla luce. Udì i nani gridargli qualcosa da laggiù in basso, ma non poteva rispondere, solo trattenere il fiato e sbattere gli occhi. Il sole brillava radioso e passò parecchio tempo prima che Bilbo riuscisse a sopportarne la luce. Quando ci riuscì vide tutto intorno a sé un mare verde cupo increspato qua e là dalla brezza e dappertutto c'erano centinaia di farfalle, immagino che fosse del tipo imperatrice purpurea, una farfalla che ama le cime dei querceti, solo che quelle non erano affatto purpure, bensì un nero vellutato scuro scuro, senza nessun segno visibile. Bilbo osservò a lungo le imperatrici nere e assaporò la sensazione della brezza sui capelli e sul viso, ma a lungo andare le grida dei nani che stavano letteralmente scalpitando di impazienza i piedi dell'albero gli rammentarono la vera natura del suo compito. Niente di buono, per quanto aguzzasse gli occhi non riusciva a vedere in nessuna direzione la fine degli alberi e delle foglie. Il suo cuore, che si era allargato alla vista del sole e alla carezza del vento, si strinse di nuovo. Non c'era più cibo cui ritornare là sotto. In realtà, come vi ho detto, non erano molto lontani dal limitare della foresta e se Bilbo avesse avuto il buon senso di accorgersene, l'albero su cui si era arrampicato, sebbene alto in sé, era quasi al fondo di un ampio avvallamento, così che dalla sua cima pareva che tutto intorno gli alberi si rigonfiassero come i bordi di una grossa zoppiera. Ed egli non poteva certo pretendere di vedere da lì per quanto ancora si estendesse la foresta, ma non se ne accorse e scese giù al colmo della disperazione, giunto finalmente a terra, graffiato, accaldato e infelice. Non era più capace di vedere niente nella penombra sottostante. Ben presto il suo resoconto rese infelici quanto lui anche gli altri. La foresta va avanti e avanti e avanti in tutte le direzioni. «Che cosa faremo? E a che cosa serve a mandare un hobbit?» gridarono i nani. Come se fosse colpa sua, a loro non importava un fico secco delle farfalle. E quando raccontò della bella brezza che non avevano potuto godere, essendo troppo pesanti per arrampicarsi a respirarla, si arrabbiarono ancora di più. Quella notte mangiarono gli ultimissimi avanzi di cibo. E la mattina dopo, quando si svegliarono, la prima cosa di cui si resero conto fu di avere ancora una fame da lupi. E la seconda cosa fu che pioveva. Che qua e là la pioggia cadeva pesantemente sul fondo della foresta, questo servì solo a ricordare che erano anche riarsi dalla sete, senza minimamente alleviarla. Non si può accalmare una sete terribile stando sotto delle querce giganti ad aspettare che una goccia vi caschi per caso sulla lingua. L'unico barlume di conforto venne inaspettatamente da Bombur. Egli si svegliò all'improvviso e si mise a sedere grattandosi la testa. Non riusciva a capire né dove fosse, né tantomeno perché si sentisse così affamato. Aveva infatti dimenticato tutto quello che era successo da quando avevano cominciato il loro viaggio quel mattino di maggio. Tanto tempo prima. L'ultima cosa che ricordava era la riunione a casa dello Hobbit. E gli altri ebbero grandi difficoltà a fargli credere al racconto di tutte le avventure che avevano affrontato da allora. Quando udì che non c'era niente da mangiare, si rimise giù a piangere, poiché si sentiva molto debole e malfermo sulle gambe. Avrei fatto meglio a non svegliarmi. Stavo facendo un sogno così bello. Sognavo di camminare in una foresta abbastanza simile a questa ma illuminata da torce sugli alberi, da lampade che pendevano dai rami e da fuochi che ardevano sul terreno e c'era una grande festa che continuava all'infinito. C'era un re dei boschi con una corona di foglie e tutti cantavano allegramente e non potrei elencare né descrivere le cose che c'erano da mangiare e da bere. Non provarci nemmeno, disse Thorin. Anzi, se non sai parlare d'altro fai meglio a stare zitto. Ne abbiamo già abbastanza di te. Se non ti fossi svegliato ti avremmo lasciato al tuo stupido sogno della foresta. Non è uno scherzo trasportarti, dopo tutte queste settimane di pasti razionati. Non rimaneva altro da fare, ormai, che stringere la cinghia sulle pancie vuote e essarsi in spalla bisacce e sacchi vuoti e trascinarsi faticosamente lungo il sentiero senza grandi speranze di arrivare alla fine. Fu quello che fecero per tutto il giorno avanzando, lentamente e penosamente, mentre Bombur continuava a allagnarsi che le gambe non lo reggevano e che voleva mettersi giù a dormire. Neanche per idea, dissero. Anche le tue gambe devono fare la loro parte. Noi ti abbiamo trasportato abbastanza. Ciò nonostante, a un tratto egli rifiutò ad avanzare e si gettò a terra. Andate avanti se proprio dovete, disse. Io non voglio fare altro che starmene sdraiato qui, dormire e sognare roba da mangiare. Se non posso ottenerla in nessun altro modo, spero di non svegliarmi mai più. Proprio in quel momento Balin che si trovava un po' più avanti lanciò un grido. Cos'era? Mi è parso di vedere un luccichio nella foresta. Guardarono tutti e abbastanza lontano. Videro un luccichio rosso nel buio, poi un altro e un altro ancora palpitarono vicini al primo. Perfino Bombur si alzò e si misero a correre infischiandosene se fossero orchi o troll. La luce era di fronte a loro a sinistra del sentiero e quando infine arrivarono alla sua altezza si resero conto che sotto gli alberi brillavano torce e fuochi, ma a una distanza del loro percorso. Sembra il mio sogno. Boccheggiò Bombur ansimando dietro tutti. Voleva precipitarsi dritto nel folto degli alberi, verso le luci, ma gli altri gli ricordarono bene gli avvertimenti dello stregone. Un banchetto non servirebbe a niente se non tornassimo vivi, disse Thorin. Ma senza un banchetto non rimarremo in vita a lungo lo stesso, disse Bombur. E Bilbo approvò con tutto il cuore le sue parole. Incerti sul da farsi ne discussero a lungo finché di comune accordo decisero di mandare e che con grande cautela si avvicinassero alle luci per saperne qualcosa di più. Non riuscirono però a mettersi d'accordo su chi dovesse andare. Nessuno sembrava ansioso di correre il rischio di perdersi e non ritrovare più gli amici. Alla fine, nonostante tutti gli avvertimenti, la fame li spinse a decidere, anche perché Bombur continuava a descrivere tutte le cose squisite che, secondo il suo sogno, si mangiavano nel banchetto silvano. Perciò tutti lasciarono il sentiero e si tuffarono insieme nella foresta. Dopo aver strisciato furtivamente per un bel po', scrutarono attentamente da dietro i tronchi e videro una radura ricavata abbattendo alcuni alberi e spianando il terreno. Nella radura c'era una grande folla, elfi a giudicare dall'aspetto, tutti vestiti di verde e marrone, seduti in un gran cerchio, su sedili ricavati, dai tronchi segati. C'era un fuoco nel mezzo e torce erano assicurate agli alberi tutto intorno, ma la cosa più bella da vedere era che mangiavano, bevevano e ridevano allegramente. Il profumo degli arrosti era così incantatore che, senza aspettare di consultarsi tra loro, Bilbo e Nani balzarono verso il cerchio, col solo proposito di elemosinare un po' di cibo. Ma appena ebbero messo piede nella radura, tutte le luci si spensero come per magia. Qualcuno calpestò il fuoco, che si levò in uno scoppiettio di lampi e faville e poi si spense. Improvvisamente sperduti in un'oscurità totale, per un certo tempo non riuscirono nemmeno a trovarsi l'un l'altro. Dopo aver inciampato freneticamente nel buio, essere caduti sopra i ceppi, aver sbattuto con gran fracasso contro gli alberi, aver urlato ed essersi chiamati fino a svegliare qualsiasi cosa si trovasse nella foresta per miglia e miglia all'intorno. Riuscirono infine a riunirsi in un gruppo e a contarsi toccandosi. Ovviamente a quel punto avevano completamente dimenticato in quale direzione si trovasse il sentiero e si erano tutti persi, senza speranza, almeno fino al mattino seguente.